L'usura non è mai di moda. Con questo slogan è stata presentata la campagna di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno dell'usura realizzata dalla Fondazione Buon Samaritano e dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia in collaborazione con l'Arcidiocesi di Foggia e Bovino e il Patrocino e le Comune di Foggia. L'obiettivo non è solo quello di offrire un aiuto concreto alle vittime di usura ma anche evitare che ce ne siano altre in un contesto che resta difficile. Secondo gli ultimi dati, in Capitanata l'andamento dei reati di usura rispetto al biegno pandemico 2018-2019 si mantiene ancora stabile. Vogliamo invitare le persone a denunciare i reati di usura qualora ce ne siano i presupposti requisiti ma comunque c'è tanta gente che vive questo odioso reato e non ha il coraggio o la forza per denunciare. Quindi innanzitutto vogliamo invitare queste persone a denunciare questo tipo di reato. Poi diciamo che la Fondazione offre un'assistenza e fa attività anche di prevenzione e di aiuto alle persone non solo usurate ma anche e soprattutto ai sovraindebitati affinché non cadano nelle mani degli usurai. I dati dicono che se ancora ha difficoltà a denunciare qui a Foggia come si convincono gli imprenditori ma anche i cittadini vittime di usura? Beh, innanzitutto si convincono con questa attività di promozione. Bisogna invitare coloro che vivono questo odioso reato come dicevo prima a denunciare e non ci stancheremo mai di farlo. Questo è un primo passo. Poi direi, inviterei queste persone a rivolgersi alle associazioni di volontariato come la nostra per avere quell'aiuto necessario a superare questo momento e forse a capire che la denuncia forse è l'unico modo per uscire da questa situazione. Grazie